eccoci amici siamo a tondino e sono rientrati ha vinto la corsa del mezzo sangue gran premio l'avvito adone da clodia secondo bouchardet e terzo è quantuaresi eccoci amici sono rientrati a tondino chi è a robot abbiamo ristiano peta ristiano è giusto allora e quarto e robot di chi lo pensa che non si che non si fettisce mai anche robot è sempre al palco allora stiamo in montagna montavo spartaco da clodia spartaco da clodia come andava venite avanti sono un po sfortunati all'inizio siamo rimasti troppo dietro in fondo ci ho provato un attimo anche pensavo di prendere il terzo il quarto ma gli ultimi cento ha detto basta questi sanno le belle siamo andati forti abbiamo fatto un bel giro grazie di stag bene allora lo ripeto l'ordine arrivo è adone da clodia secondo bouchardet da clodia terzo quanto l'attuale si è il quarto e robot eccolo sentite se ne vanno bene allora aspettiamo la forza la prossima quella di tre anni anche quella sarà molto bella ora vado a fare due atti